Ciao e ben ritrovati a questo nuovo tutorial, una richiesta dall'amico Carmine, Il mio corpo che cambia di Piero Pelù. Non c'è molto da dire, perché comunque utilizza un groove che è standard, lo utilizza in tutto il brano a parte una variazione, alla fine quindi lavoreremo con due groove differenti. Vi invito a scaricare comunque il pdf che trovate qui sotto, guardiamo un groove base, Charleston tutto in ottavi, sull'1 troviamo un colpo di cassa sul battere, sul 2 rullante sul battere quindi un ottavo puntato e come ultimo sedicesimo un colpo di cassa, sul 3 troviamo una pausa di sedicesimo, un colpo di rullante sul secondo sedicesimo e sul secondo ottavo un colpo di cassa, sul 4 sempre il nostro rullante, ora ve la faccio a 90 bpm per rendervi molto meglio l'idea, logicamente non è questa la velocità del brano, poi ve lo portate a velocità e ve lo suonate così com'è. La variazione quindi il nostro secondo groove vede solo sul primo quarto, cassa sul battere e sull'ultimo sedicesimo, quindi sull'1 ottavo puntato di cassa e poi ultimo sedicesimo, il resto non varia. Portiamo il tutto a velocità del brano. Lavorate quindi su questi due rull e poi divertitevi a suonate la canzone. Anche se breve, spero che comunque questo tutorial vi sia piaciuto, mettete un bel like, se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Non mi resta che salutarvi e augurarvi come sempre un buon groove. alla prossima, ciao! 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 Ciao!